buongiorno eccomi con una nuova lettura per quanto riguarda la mia frase riportata dall'agenzia dn chronos la risposta è pronta la rimando alla prossima lettura adesso invece vi voglio leggere una cosa che mi ha colpito non è una cosa scritta agli inizi del novecento o nell'ottocento ancora più indietro nel tempo ed è così adatta adattabile ai nostri giorni che ve la voglio leggere è tratta dalle storie di sallustio il discorso di licinio macro tribuno della plebe abbiate pazienza non è molto lunga ascoltatemi perché ci sono dei parallelismi straordinariamente similianti se voi quiriti non valutaste a sufficienza la differenza tra i diritti ereditati dai vostri antenati e la schiavitù apprestatavi da silla e qui potete sostituire silla con un altro nome uno dei tanti che vi sta più a cuore o vi sta più antipatico dovrei lungamente parlare e spiegarvi quante volte e in seguito a quali offese la plebe attuò una secessione in armi dal senato e creò i tribuni della plebe come per rivendicare i propri diritti ora mi resta soltanto da esortarvi e da guidarvi sulla strada che credo sia quella giusta per conquistare la libertà non mi sfugge quanta sia la potenza della nobiltà che da solo senza potere con un simulacro di magistratura cerco di spodestare dal suo dominio né quanto più liberamente agisca una banda di criminali rispetto agli onesti isolati anche qui meditate gente ma oltre alla speranza che nutro in voi e che ha sconfitto la mia paura credo che per un uomo valoroso sia preferibile una battaglia per la libertà con esito sfavorevole che non aver combattuto affatto tutti gli altri magistrati nominati per tutelare i vostri diritti hanno rivolto contro di voi la loro forza e il loro potere allettati da favori speranze compensi e preferiscono delinquere a pagamento una bella pausa significativa che non comportarsi bene gratuitamente veramente sarebbero a pagamento pure se si comportano bene così tutti sono caduti in potere di pochi i quali con la scusa delle necessità militari e qui possiamo sostituire la parola militari con sanitarie le necessità sanitarie si sono impadroniti dell'erario e di tutto il resto e si sono fatti un baluardo delle vostre spoglie mentre voi moltitudine come bestie offrite voi stessi al dominio e allo sfruttamento dei singoli spogliati di tutto quello che vi hanno lasciato i vostri antenati tranne il diritto di voto e qui san lucio sta meglio di noi cioè ricinio macro perché ci fanno votare ci faranno votare chissà speriamo tranne il diritto di voto attraverso il quale una volta nominavate dei difensori adesso nominate dei padroni come ci azzecca sta cosa è per raro infatti il coraggio di difendere le proprie idee tutti gli altri appartengono al più forte io dunque vi esorto e vi prego di riflettere e di non cambiare per ignavia il senso delle parole chiamando tranquillità la schiavitù e del resto di questa tranquillità non c'è modo di godere se il delitto sconfiggerà la giustizia e l'onore e se non vincerete vi terranno in schiavitù e in servitù più stretta perché ogni offesa è tanto più sicura dell'impunità quanto più è grave e quanto ancora è vera sta affermazione qual è dunque la tua proposta chiederà qualcuno di voi per prima cosa che abbandoniate questo modo di comportarvi con l'animo pigro e la lingua svelta sempre pronta a criticare sempre pronta a brontolare a borbottare tutte cose che non servono fine a se stesse chiusa la mia parentesi riprendo con l'animo pigro e la lingua svelta non vi invito a quelle azioni virili grazie alle quali i vostri antenati ottennero i tribuni della plebe e qui possiamo dire con la lotta di resistenza abbiamo ottenuto una repubblica democratica una bella costituzione no l'accesso alle magistrature patrizie votazioni libere ecco e non sottoposte alla ratifica dei patrizi qui al posto dei patrizi possiamo mettere che ne so i poteri forti lo stato profondo il nuovo ordine mondiale a scelta dunque riprendo dal momento che tutta la forza sta in voi quiriti e sta nella vostra facoltà compiere o no a vostro vantaggio gli ordini che adesso subite a vantaggio di altri aspettate forse il consiglio di giove o di qualche altro dio i grandi ordini dei consoli e i decreti del senato e qui al posto del senato potete mettere i decreti della presidenza del consiglio dei ministri siete voi a ratificarli obbedendo quiriti siete voi e di vostra iniziativa a favorire a aumentare l'arbitrio perpetrato contro di voi io non vi esorto a vendicarvi delle offese ma a desiderare la pace e volendo non la discordia civile come loro mi calumniano ma la fine di essa richiedo ciò che appartiene secondo il diritto delle genti e se vorranno ostinarsi a trattenerlo vi propongo non la guerra né la secessione ma semplicemente che smettiate di offrire il vostro sangue forse questa improvvisa legge frumentaria e a frumentaria potete sostituire reddito di cittadinanza o l'elemosina dei 600 euro si vogliono ripagare i vostri carichi concessioni così piccole ingannano con esili speranze l'ignavia di ciascuno senza liberarvi dalle preoccupazioni familiari e anche se fosse un'offerta ampia dal momento che ve la darebbero come prezzo della schiavitù quale viltà non sarebbe cadere nell'inganno e dover ringraziare l'offensore di ciò che è vostro attenti agli inganni in nessun altro modo possono aver avere la meglio su di voi non è l'ignoranza che vi inceppa piuttosto vi ha preso una specie di torpore per cui restate insensibili alla gloria come all'infamia e avete dato tutto in cambio dell'attuale bonaccia pensando di avere libertà più che sufficiente solo perché la frusta risparmia le vostre schiene per ora dico io e siete liberi di muovermi di muovervi scusate ma insomma per modo di di perché qua per concessione dei vostri ricchi padroni qualunque sia l'esito la plebe è sconfitta e lo sarà ogni giorno di più se avranno maggior impegno loro nel mantenere la tirannide che voi nel reclamare la libertà dalle storie di sallustio il discorso di licinio macro tribuno della plebe grazie alla prossima lettura grazie 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 grazie